Ciao a tutti ragazzi, oggi portiamo a Clash Royale, faremo lo spacchettamento e solo un attacco online, sarà piccolo questo video, corto ma... Allora, siamo saliti in Arena 4 con 1157 trofei, allora andiamo a richiedere domatore E... salutiamo il clan Allora, nel frattempo andiamo a fare un attacco, questo è il deck Questo è il deck ragazzi, andiamo subito e dopo facciamo uno spacchettamento Allora ragazzi, cominciamo subito Torre Bombarola Torre Bombarola e subito frecce Ora aspettiamo che si carica Elisir Ragazzi, questo video durerà poco perché è iniziato il secondo tempo dell'Italia e vogliamo vedere la partita noi E poi l'abbiamo fatto perché vi vogliamo bene Allora, mettiamo la capanna del Barbary Lui ha messo il gigante dall'altro lato ragazzi Scusate per il messaggio Allora, mettiamo un'altra capanna Dai Goblin E ci proteggiamo dall'altro lato con Il scheletro Ora mettiamoci subito qua una torre bombardiera Così non ci fa fuori Forse ci ha fatto fuori una torre Sì, sì Sì, ci ha fatto fuori una torre Allora, però noi attacchiamo Mettiamo anche il domatore E lasciamo qua stare il gigante Domatore Ok Ma il domatore Ok, una stella è fatta 1-1 Ora buttiamo un razzo No No ragazzi Vabbè, dai, non fa niente Non si caricava più la desiderio Allora, facciamo questo spacchettamento Allora, facciamo questo spacchettamento Allora, vediamo qua Ci ha salutati Ringraziamo Mare che ci ha salutati Allora, baule omaggio, subito Oro Orda di scheletro Orda di scheletro Sgarri Sgarri E capanna di barbari Poi di nuovo Oro Tesla Capanna di goblin Noi lasciamo e va bene Ora il baule d'argento Oro Cavaliere Orda di scheletro Andiamo con il Marco Doniamo Allora, andiamo con le baule D'oro Oro Frecce Cavaliere Valkyria Scheletri Allora, andiamo con un altro baule d'oro Oro Orda di sgarri Tesla Goblin lanceri Torre inferno Speriamo che ci esce una epica ragazzi Anche la leggendaria Oro Io voglio la leggendaria Il mastino è pure buono Gemme Gemme Orda di sgarri Tesla Cavaliere Torre inferno Ragazzi, per questo video è tutto Spero che vi piace Vi volete mettere un like Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto Un commento E ci vediamo al prossimo video Ciao bella ragazzi